Ciao a tutti ragazzi, il mio nome è AgroModerni, siamo qua in questo nuovissimo episodio di Grand Theft Auto 5 Siamo di nuovo qua, nella nostra bella avventura Ah ok E niente, è appena arrivato un sms Continuiamo la nostra bellissima avventura Nella scorsa puntata siamo riusciti a salvare Michael Oggi c'è anche a me Staremo probabilmente a continuare le missioni Noi abbiamo un grande colpo per pensare Ma ho visto che adesso ci dovrebbe essere Ok non ce ne sono Dovrebbe esserci un imprevisto Nel senso che ci sono di nuovo quelli dell'E5B che ci devono parlare Ci di nuovo solo manca bisogno di noi Adesso prendiamo questa Ferrari qua Ci puntiamo il marker Voglio andare a vedere cosa ho ancora di là Ma il mio garage perché se lo vuoi così decente lo prendo volentieri Via, ok ci si vira Ok me ne immaginavo più veloce questa Non è quella che assomiglia Wow Mamma mia Cosa ho appena fatto Mamma mia Signori Mamma mia Ok Bisogna prendersi un attimo la macchina Andiamo da l'E5B che si vede Probabilmente avranno un altro lavoro Che ovviamente sarà sempre l'ultimo Che dobbiamo fare per loro Sì sì Ok allora ci mettiamo qua Questa non la metto neanche dentro perché mi occupa spazio e magnetino Però entriamo dentro e vediamo se ho qualcosa Accidiamo al garage Al garage No Non ho niente Ma seriamente Vediamo dove è l'Ester Se l'Ester è Vicino al deposito della polizia Ce l'andiamo a pigliare Qua su c'è una macchina È casa nostra Perché ce l'ha Vabbè Sì l'Ester è vicino Quindi andiamo a vedarci cos'è che c'è una lì Perché io mi ricordo che avevo Una macchina molto molto faiga Che avevo comprato Ma boh Chissà che fine ha fatto Adesso andiamo laggiù a vedere Il mio soldino ce l'abbiamo In teoria così vediamo Dove abbiamo quasi un milione Quindi Non si pagare la cauzione Oh Il problema è guidare decentemente Sempre da dentro Andiamo avanti Piano Qua devo girare subito stretto Un po' a sinistra Wow Era quasi qui Nessuno mi taglia la strada E Avrei dovuto darti la precedenza Ah no Dove andare più avanti Quella è carina Molto carina Siamo nel quartiere della polizia Magari vi toglie la cagata Ma magari vi toglie la cagata C'è un po' a sinistra Tipo questa Ah Avrei provo Voglio di rubargli una macchina Però c'è lui che beve il caffè In un modo molto strano Quindi magari evitiamo Ha uno sguardo molto tenebroso Baffalo o Banshee Proviamo a vedere la Baffalo cos'è La Baffalo è quella di Ma ce l'avevo anch'io così No questa è quella di Franklin Andiamo a vedere cos'è l'altra La Banshee Cioè per carità io mi prendo anche quella di Franklin Ma no eccola qua la mia Guarda qua che carina Con questa si che ci si diverde Andiamo da Lester Magari vi tirerai dentro Questa si che tira Deve essere una corvette Non so che siamo già arrivati Sbarrone in action Andiamo su vediamo quelli dell'F.I.B che cavolo voglio Dizzi dell'F.I.B che c'è qui Sbarrone in action Sbarrone in action E' un'episodio per ora, non puoi farlo senza Franklin, ora che lo sapevo. Davy, dove è il tuo figlio Steve? Si, stanno qui. Sì, stanno qui. Sì, stanno qui. La nostra vita è stata una serie di fanci. Ok. Prendete questo problema per me. E io prenderò il vostro cuore. E se non? E io prenderò il giallo e tu sarai fuori. Ah, f***a te, Davy. Ho ho detto tutto prima. Non come questo non hai. Ah, sì, ha detto. Ha detto che se facciamo quello che ti diciamo, insieme possiamo prendere il grande uomo che è la corruzione del governo. Sì, e se non? Siamo tutti fredditi. Perché l'Agenzia è con noi. Non ho pensato, non ho pensato, non ho pensato. Non ho pensato, non ho pensato, non ho pensato. Non ho pensato, non ho pensato. Non ho pensato, non ho pensato, non ho pensato. Non ho pensato, non ho pensato. Un assassino è pure là. No, abbiamo solo rubato della roba radioattiva chimica. Armi biologiche. Non ho pensato, non ho pensato. No, 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 questo non funzionerà. L'unica modo per l'accessarlo è con i vostri bambini. F***a me. Michael. Se vogliamo entrare nell'edificio, nell'headquarter dell'Agenzia. Ehi! E' la ultima cosa che facciamo. E siamo finiti. Periodo. Ovviamente. Sono un uomo delle mie parole. Dave, andiamo! Sì, molto di parola. Spero ci sia la mia macchina. Vabbè, Lester, andiamo. Buona luck, ragazzi. Andiamo a vedere cosa è che potevamo fare. È lento come una lumacca. Come fa già adesso all'edificio? Poi abbiamo avuto una di quell'estituzione dove ti farei un patente. Si fa più. Così a guardare il vuoto. Andiamo. Allora. Hai una idea di come fare questo? Scoparlo? Non davvero. Ma pensavo di cercare di trovare un po' dentro l'edificio. Siamo inizialmente nella stagione? No, no, no. Siamo aspettando per qualcuno a entrare. Allora. E come questo va a arrivare? Praticamente come entrare nella vasca degli squali, no? Oh. O bro, Bela. E' un chico specifico? Dato tantissimo. Ok. Ma ci vediamo qua. Ok. Chiudere qui sta? Doviamo qui. Ma ci vediamo qua. Cos'è che dobbiamo fare? Aspettare un tizio Andiamo a aspettare l'auto Di un inserviente Ok, bel piano Vediamo se è lui Gli tanti però sono carini, eh, di questa Finta corvette Sa No So, cosa dobbiamo fare? Che possiamo fare? Facciamo il lavoro E magari puoi scoprire i file quando sei inizio Facendo qualcosa che stai facendo Questo potrebbe essere un passaggio Dai, 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 forza, forza Che qua stai su YouTube Non è che abbiamo tutto sto tema Però anche se è lui Stavo facendo scrocchiare il collo a Michael Ragazzi Ok Spero che siete Perché altrimenti non ce la faccio No, ma quanto dobbiamo aspettare? L'attesa è infinita Che si chiamerà questo video Buon, non è stato deciso Cioè, a momenti apro Facebook E mi faccio un gioco su Facebook Sul cellulare E vi taglio la parte Cioè, io non lo so Dai Ancora uno L'ultimo Cioè, tu Adesso esci Nel tuo tour Tu guarda C'è una corvette che mi segue Cosa volevo fare? Sorpassa l'aria Hey, you mind? Put away the smartphone Or pad Or whatever the hell that is For a minute No surfing while I'm trying To tail this guy It's work related Yeah, well I prefer All hands on deck right now If it's okay with you God, you're worse than my son You want to break into The FIB's West Coast headquarters You're gonna need more Than a janitor's License plate number Now let me work on some angles While you, uh Keep this car behind that one In between these white lines That's it? I mean, other than a few Missing expletives In terms of racial abuse That was my son In spades Va bene, dai Yeah Non lo sgommiao Perché Potrebbe notarci You're a good stick-up man But your tailing skills Could use some finesse Back off You want to drive? I just spoke with agent Haynes We've got the budget To pull this off Good Con tutto distante Masa tua Come on What do we do when he gets home? What do we need from him? We need cooperation And maybe his overalls And an ID And if he don't cooperate You know what it's like To clean up shit for Steve Haynes He'll cooperate He's pulling up Park down the block And we're going forward to Ciao Tranquillo Non ti sto pedinando E poi Vado verso di lui Hey Marilyn How's that cable connection Coming along? Fine, fine Sorry, look Uh I'm busy Only when she needs something Jesus Ehi man What's up? Oh, scusa Ho sbagliato Ok E ora? Che faccio? Entro Che faccio? Che faccio c'è? 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 I work two jobs Man Take any break I can get Hey Hey, you want the beer? No, just take the overalls Oh, and your ID C'è n'è? Oh, and Harvey I probably don't need to say this But you don't play ball? I'll be forced to do something I really don't want to do Enjoy your beer Peacewasser si chiama la birra Vabbè Ok Va bene E via Si corre Sulle ali Della vittoria Successful? Oh, yeah Oh, yeah Torniamo Non so dove va Da destra Sì C'è la fabbrica Mamma mia Che rischio That was easy Guess you were right Steve Haynes is a shitty boss Hey, I called Frank while you were in there He's coming to meet us Yeah, huh? What do we need him for? Brunt work Information gathering What information? The plans to the office There aren't any digital copies Or if there are I'm not clever enough to find them The architect is LS of A So I thought Frank Talon, take a hard copy Sounds complicated You sure you need these plans? Yeah, I do If I'm going to find a way to bypass a couple of hundred million dollars worth of government security Millions? They blew that much Government contract License to steal Ah, he's already here C'è la macchina di Franklin Probabilmente ci sono anche Franklin Va bene ragazzi Io comunque vi saluto Vi ringrazio tantissimo Per aver visto questa puntata Nonostante forse ci sia stata quella parte un po' noiosa dell'inseguimento Ma Primo pedinamento che facciamo su YouTube È una cosa figa Figa Noi ci vediamo nel prossimo episodio Mi raccomando Lasciate tanti bei like Per Se lo aspettate Se lo volete vedere Noi ci vediamo appunto Nel prossimo video Domani Oppure nel prossimo episodio Prossimamente Da Gromodarni è tutto Ciao a tutti ragazzi Ciao